Anche in provincia di Pesaro Urbino, domani, venerdì 17 novembre, sarà sciopero generale in linea a quanto inditto su scala nazionale da CGL e Will. Anche nella dimensione locale, la CISL non parteciperà ad uno sciopero che da ieri è stato ridimensionato da 8 a 4 ore e che dovrebbe avere disagi limitati sui servizi pubblici essenziali nella fascia compresa fra le 9 e le 13 per quel che riguarda trasporti come treni, autobus e taxi. Ad incrociare le braccia potrebbero essere pure gli addetti di ANAS e delle autostrade. Tante le categorie coinvolte ma ancora di difficile decifrazione l'adesione ad uno sciopero che coinvolgerebbe anche gli addetti di Marche Multiservizi, i Vigili del Fuoco, il Comparto della Sanità, gli Impiegati degli Uffici Postali, i Dipendenti Pubblici e i Dipendenti Scolastici che potrebbero fermarsi per l'intero turno lavorativo. Ad incrociare le braccia in piazza saranno anche i metalmeccanici attesi alle manifestazioni che in provincia si terrà a Pesaro in piazzale Lazzarini a partire dalle 10. Si sciopera contro la manovra di governo penalizzante sul tema pensioni e sulle mancate promesse in tema di stabilizzazione di precari per un'emergenza salariale sempre più acuta sotto l'incudine dell'inflazione. In piazza, al fianco di lavoratori e sindacati CGL e Will, ci sarà l'intervento di Lucia Grossi, segretaria nazionale della Will Temp.